Adesso che abbiamo battuto i campioni d'Europa, probabilmente bisognerà che qualcuno chiederà la scusa ad Allegri, no? Giusto? Perché questa sera la Juventus, a parte un tiro a Lukaku in fondo e poi Havertz sul finale, proprio la disperata, ha fatto giocare il Chelsea, l'ha fatto sfogare. Vi ricordate la Juventus sul Barcellona? Sempre con Allegri l'ha fatta giocare, non gli ha fatto fare gol. Noi abbiamo un giocatore che è immenso. Purtroppo abbiamo sprecato due gol, secondo me, fatti. Uno con Bernardeschi, ma lo perdono perché ha dato un assist meraviglioso per il gol di Chiesa e nel primo tempo quell'immondizia, d'ora in avanti lo chiamerò immondizia, non più giocatore, quell'immondizia che risponde al nome di Adrien Rabiot, giocatore inverecondo, un giocatore vergognoso, un giocatore inutile, che non è servito a niente, ha fatto solo casini, ha solo perso palloni, non è stato capace di tenere l'altra squadra. Meno male che Betancourt con Allegri gioca a calcio e ha giocato anche bene. Comunque, insomma, dai, la Juventus va rivista, va rivista. Eravamo troppo severi, io ero troppo severo e molti di noi erano troppo severi. Il calcio d'agosto non va guardato, c'era andato tutto storto, il portiere faceva delle papere, mancavano giocatori fondamentali. Poi si è visto, si è visto. Quando è nato in forma chiesa la Juventus si è svoltato. Bernadeschi sta giocando bene quest'anno, ragazzi, in ciente da fare, inutile, non è un grande giocatore, però sta giocando bene. Sandro sta giocando bene, Betancourt sta giocando bene. Non credo che sia un caso, no? Non credo che sia un caso che stiano giocando bene. Lì c'è la mano di Allegri, in ciente da fare. Lui le sa preparare, le partite. Noi critichiamo le mosse, critichiamo le scelte, no? Abbiamo visto la formazione iniziale, abbiamo visto Bernadeschi e chiesa. Io nella pre-partita, no? Che abbiamo fatto un live insieme a voi. Ma perché non ha messo Ken al posto di Bernadeschi? Che senso ha? E' evidentemente lui voleva giocare col falso Nueve. E il falso Nueve nel primo tempo ha messo in difficoltà, spesso e volentieri, il Chelsea. Ma ricordate un po' il Bernadeschi di Juventus-Atletico Madrid e il Morata di Monaco, Bayern di Monaco-Juventus. Che praticamente metteva in difficoltà la difesa del Chelsea, che non sapeva come muoversi. Tant'è vero che facevano fatica i due centrali difensivi a marcarlo, perché si apriva gli spazi. Purtroppo Bernadeschi non è un giocatore che ha i piedi fini, perché purtroppo ha perso molti palloni. Però è servito alla causa. Poi è chiaro che se tu hai la fortuna di avere un giocatore come Chiesa, che io personalmente lo metterei, non dico centravanti, ma poco ci manca. Perché come vede la porta questo signore? Vede la porta, fa degli strappi pazzeschi. C'è stata un'azione in cui era dietro di un metro il giocatore, ha lanciato la palla in avanti, l'ha raggiunto, superato e l'ha andato in porta. Cioè è una roba spettacolare. Chiesa è veramente un giocatore spettacolare. Penso che sia il più forte giocatore italiano degli ultimi anni, in assoluto. Non c'è Zagnolo, Chetena, non c'è... È il giocatore italiano più forte in assoluto e fortunatamente ce l'abbiamo noi. Ha fatto la classica partita di controllo, ha fatto sfogare il Chelsea, che poi fortunatamente è quello che ho detto nella lavagna tattica ieri, nella nuova rubrica che ho lanciato. Allegri fa così, lui è uno scacchista, lui studia le partite, non c'è niente da fare. Molti dicono che Allegri non fa tattica nel campo, cioè con i giocatori, ma la tattica lui la fa nella preparazione della partita. Perché di fatto il Chelsea, campione d'Europa, che tutti davano per stravincente a Torino, a parte il sottoscritto, io per scaramanzia nel pre-live ho detto 1-1. Non è assolutamente. Ma io nella live che ho fatto l'altro ieri, dove c'era l'ospite il mio amico Nico, il mio amico Roberto, ho detto che ero positivo. Stamattina nel Good Money Juventus vi dissi che mi ero alzato bene ed ero contento perché secondo me questa Juventus ci avrebbe fatto godere. Signori, io ho goduto. Io ho goduto perché battere il Chelsea, essere primi a 6 punti a punteggio pieno, adesso tu basta che non fai cazzate a San Pietroburgo, perché abbiamo due partite a San Pietroburgo e poi a Torino con lo Zenit. Ti basta fare 4 punti, non c'è bisogno di farne 6. Certo, se ne fai 6, tanto meglio. E dopo ti puoi permettere addirittura di andare a giocare nel campo del Chelsea all'ultima giornata, perché poi avremo il malmo in casa. Quindi adesso il girone è in discesa. Adesso se non facciamo sciocchezze, il girone è in discesa e la qualificazione è proprio garantita. Vale che vada, arriveremo secondi. Per cui, gran bella Juve, e parlo di un insieme di cose quando dico gran bella Juve, non mi riferisco al bel gioco, perché il bel gioco non serve a un tubo, perché il tiki-taka sterile che ha fatto il Chelsea ha cosa portato? Ha portato una sconfitta e a casa, in Inghilterra. Lo spavoracchio Lukaku non ha colpito. De Ligt e Bonucci sono stati meravigliosi. Quindi non si è sentita la mancanza di Chiellini. Subito anche lì, un po' di paura, però bisogna avere fiducia di De Ligt, perché è un giocatore incredibile. Locatelli ha fatto il scompitino. Stasera è stato più un contenimento che non in costruzione di gioco. Comunque, insomma, promossa la Juventus, a parte qualche giocatore, che poi vedrete nelle pagelle, non voglio facili triunfalismi. Potrei essere qua a fare gesti, a urlare, a esultare. No, no. Godo dentro, godo dentro. Sto godendo, sappiatelo, sto godendo, perché io adoro la Champions League. Queste sono le partite che mi danno adrenalina, che mi danno carica. Adesso non so se mi addormenterò prima delle tre di notte, ovviamente, ma tanto devo fare dei video, quindi. E veramente mi è piaciuta. Questa Champions League mi sta veramente piacendo. La prima partita abbiamo vinto a Malmo, la seconda partita abbiamo vinto in casa con il Chelsea. Adesso non vedo l'ora di andare a giocare il 20 di ottobre a San Pietroburgo. Peccato, peccato, nota di chiusura. Mi sembra anche giusto, visto il mio mestiere, visto che faccio cameraman e cineasta da quasi 40 anni. Amazon, se avete bisogno di uno che mi insegna come citavano le telecamere, vengo. Avete fatto vedere tutto il primo tempo buio, avete sbagliato il bilanciamento del bianco. Nel secondo tempo l'avete tarato troppo chiaro, poi vi siete accorti che era troppo chiaro e l'avete riportato sull'oscuro. Cioè, andate a studiare da Sky, da Dazon, almeno loro le telecamere le sanno puntare. Non si è mai piantato, perché io ho una buona connessione. Ma si vedeva da schifo, si vedeva veramente da schifo. Ok? Benissimo. Grande Juve, veramente grande Juve. Bravo Max, bravo Max. Questa sera prendi un voto alto perché la Champions League per me vale due volte il campionato, se non tre, e quindi i voti vengono esponenzialmente alzati. Grande Juve, sono contento. 1-0, 6 punti, punteggio pieno. E vai! 1-0, 6 punti, punteggio pieno.